Grazie a tutti. La tradizione popolare del Lucano, i nostri canti, Metabontino, Valdani, Potentino, Materano e in più il nostro marchio che sarebbe la nostra basilicata è appunto promuovere altri prodotti come il Lucano Magazine della nostra magnifica regione. Speriamo di poter far divertire tutta questa bellissima gente e lo nostro contatto Facebook è Agostino Gerardo Terrania. Un saluto a tutti e un bacio. Ciao. Speriamo di poter far divertire tutta questa bellissima gente. Speriamo di poter far divertire tutta questa bellissima gente. Signore Zato, salte ravi! Ehi! Rappositi via! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.